Rottura tra i vertici Alstom e Parigi. L'azienda francese è leader nel settore dei trasporti ferroviari pronta a dire sì all'offerta dell'americana General Electric. 10 miliardi che il gigante francese potrebbe annunciare ed accettare ufficialmente già oggi. La notizia è trapelata a conclusione della terza riunione del Consiglio d'Amministrazione Alstom da venerdì. L'esecutivo di Parigi e il Ministero dell'Industria Arnaud Momboua in primis hanno dichiarato apertamente la propria preferenza per un'intesa con la tedesca Siemens a cui tuttavia Alstom non chiude definitivamente la porta. L'offerta General Electric riguarda unicamente la divisione Power di Alstom che rappresenta tuttavia una cifra d'affari da 15 miliardi circa di euro su un totale di oltre 20 dell'azienda.